Da tempo ci si chiede quali siano i rapporti tra Beatrice Valli e sua sorella Ludovica. Entrambe amate protagoniste di uomini e donne in momenti diversi nella storia della trasmissione, non appaiono mai insieme sui social. Questa curiosa lontananza nonostante il legame di parentela e il comune percorso professionale, ha fatto nascere in molti fai dubbio che tra le sorelle Valli i rapporti siano tesi o addirittura assenti. In una recente diretta su Instagram Stories, Beatrice è finalmente intervenuta sull'argomento, smettendo del tutto presunti litigi passati e spiegando che semplicemente lei e Ludovica non riuscirebbero a vedersi a causa della distanza geografica e degli impegni professionali. No, non ho letigato con mia sorella, con Ludo. Non ho letigato con nessuno. È soltanto che con gli impegni lavorativi veramente non ci vediamo mai, ma nessuno di noi. Io abito a Milano, lei lavora a Milano poco e gira spesso e quindi ci becchiamo tutte pochissimo. Anche con l'altra mia sorella Eleonora ci vediamo veramente pochissimo. Si vedono molto di più Eleonora e Ludovica perché mia sorella Eleonora, la più grande, abita ancora lì da mia madre, quando la Ludovica torna a casa giustamente si incontrano. Qua a Milano vengono poco. Va detto, però, che alla fine della dichiarazione di Beatrice, si sente la voce di Marco Fantini dire che sfortuna, con un tono che sembrerebbe ironico. Manco a dirlo, i fan non sono molto convinti della spiegazione di Beatrice, sostenendo l'esistenza di invidia reciproche tra le due sorelle. Che sia per via delle lontananza o per ragioni personali, già in passato Beatrice aveva ammesso di non essere vicina a Ludovica, parlando di scelte di vita diverse. In seguito era nata una teoria secondo cui sarebbe stato il rapporto con il padre a dividerle. La più giovane Valli non avrebbe legami con il genitore, a differenza di Beatrice. In realtà, in base alle sue ultime parole, sembra essere proprio quest'ultima la più lontana dal resto della famiglia. La vicenda, insomma, continua a essere piuttosto oscura. Intanto, Beatrice Valli è giunta al quinto mese di gravidanza. Già mamma del piccolo Alessandro, nato da una relazione avuta quando era giovanissima, si appresta ad avere una bambina dal compagno Marco Fantini. La coppia ha superato il periodo di crisi, tornando più unita che mai. Chi se ne frega!